Ho fatto l'arresto per chiedere che ci sia assolutamente una pulizia di tutta la strada degli archirafi, della villetta dove vi sto portando, dove nella villetta è una cosa terribile, è che ci sono fabbricidi, cioè qui trovate praticamente, avranno risultato qualche casa, quindi hanno buttato via le porte, come potete vedere, e insieme alle porte qua c'è un bello lavandino, poi non so se lo vedete, lo vedete? Sì, 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 benissimo, benissimo. C'è il lavandino, il resto di un calcinaccio e via dicendo, e così ovviamente è tutta l'aiuola, questa e quella è limitrofe. Cosa fare? Per quanto riguarda gli fabbricidi abbiamo chiamato Lamia, abbiamo chiamato anche Norata della RAP e sicuramente stiamo prendendo le condizioni per chi si possa intervenire. Un appello è ai cittadini palermitani, perché l'amministrazione non c'è, ma i cittadini dobbiamo dare, come abbiamo fatto in tanti quartieri dove stiamo andando noi stessi a pulire, uno schiaffo all'amministrazione. Perché se è vero che l'amministrazione non esiste, è pure vero che i cittadini devono amare la loro città. Io penso che quando quel posto verrà ripulito, e il posto la gente vedrà che è stato pulito, gli altri non ci dovrebbero andare a caricare. Grazie a tutti.